Gli uffici confesercenti di Pesaro aprono lo sportello della Cassa del Microcredito, uno strumento nato per agevolare l'accesso al credito a piccoli imprenditori, giovani e start-up in tempi rapidi. Un modo innovativo per accompagnare lo sviluppo dell'impresa dall'idea alla realizzazione del progetto fornendo un supporto finanziario. La Cassa del Microcredito, essendo un operatore iscritto come operatore di 111 del testo unico bancario, dà la possibilità soprattutto ai miei imprenditori e alle nuove imprese di poter accedere sostanzialmente al credito e poter sviluppare un'idea imprenditoriale. Si parte dall'idea, noi naturalmente mediante il supporto del territorio e quindi abbiamo formato adeguatamente tutte le persone sul territorio, anche la provincia di Pesaro naturalmente ha un tutor abilitato adeguatamente scritto nell'apposito albo e formato dalle strutture nazionali che possono naturalmente aiutare l'imprenditore nel poter richiedere un finanziamento e soprattutto nel dare quella finanza necessaria per poter iniziare l'attività stessa. Ci sono tantissimi giovani, abbiamo iniziato l'attività da pochi mesi, da quattro mesi, ci sono tantissimi giovani che si sono affiancati, avvicinati a noi per richiedere credito e hanno ottenuto il credito anche giovani ingegneri di 25 anni che hanno iniziato, grazie a noi, un'attività imprenditoriale. Questa è stata una bella iniziativa e che speriamo di incrementare. Abbiamo le disponibilità necessarie della Casa Mare, quindi di Confesercenti, per poter finanziare l'impresa, abbiamo un budget importantissimo di raggiungere al 31-12-2023 circa 20 milioni, e speriamo che ci siano tantissime richieste da poterle esaurire. Il servizio inoltre non sarà rivolto soltanto agli operatori commerciali, ma metterà a disposizione dei privati diversi prodotti, dai finanziamenti personali a quelli per lo studio dei figli. Siamo molto felici perché è un investimento per il territorio molto, molto, molto importante. Abbiamo risorse, abbiamo disponibilità. Le imprese oggi hanno bisogno sia per partire una start-up che viene in questo modo facilitata di tanto, quindi aspettiamo che le imprese ci portino dei progetti che siano ben visti, che siano valutabili, che siano ben strutturati, per poterli finanziare. Questa è la nostra nuova mission. Tutto l'iter della pratica, una volta che il nostro tutor avrà la documentazione, si svolge nell'arco di pochissimi giorni, un paio di settimane, quindi l'erogazione è rapida, è veloce, è molto smart, il tutor si occupa soprattutto di tutto, quindi tutti i documenti vengono realizzati qui.